Ciao a tutti ragazzi e bentornati, scusatemi per il ritardo col quale carico questo video ma è stata una settimana veramente intensa di lavoro Tempo fa vi ho parlato di un'azienda, GameSeer, e per tempo fa intendo circa due anni fa E in quel momento vi ho parlato di un controller, ovvero di un gamepad, sia wireless che via cavo E come vedete ce l'ho ancora, lo utilizzo ancora perché è veramente un prodotto solido, performante Che durante questi due anni di gioco, sebbene io non lo utilizzi poi tantissimo, ha retto il colpo fino all'ultimo E se foste interessati, la mia recensione è ancora valida, trovate il link qui nelle info E invece in descrizione trovate il link per vedere qualche informazione in più e magari acquistarlo Però GameSeer, l'azienda che ha creato questo controller, mi ha anche voluto inviare un nuovissimo prodotto Uscito veramente da poco, che fatemelo dire ha qualcosa di incredibile La cosa bella è che l'azienda quando me l'ha inviato non mi ha detto nemmeno che prodotto fosse Mi ha detto semplicemente, guarda che questo ti stupirà E come darle torto? E ve lo mostro subito, infatti oggi vi voglio parlare di questo mouse Nello specifico il GM300 Che cos'ha di particolare? Beh, è un mouse wireless innanzitutto, ma si può utilizzare anche via cavo Inoltre porta altre due chicche La prima che è customizzabile e dopo vediamo in cosa E il secondo è il fatto che potete quindi connetterlo via cavo E sarà una connessione USB-C E lo so che molti di voi saranno contenti di questo fatto E inoltre ultimissima cosa, prima di entrare un po' nello specifico e nei dettagli Ovviamente la customizzazione permette anche a chi è mancino di godere finalmente di un mouse da gioco Come si deve Perché questo mouse se doveste immaginare di dividerlo in due Beh, risulterebbe totalmente speculare Quindi è un mouse che può essere usato sia con la mano destra sia con la mano sinistra Con la stessa identica esperienza E lo so che molti di voi incominceranno a dire Sì, ma quando si ha un mouse wireless non si ha comunque quel feeling e quella velocità che si può avere col cavo Beh, in questo caso ragazzi, Gamesir ha fatto un lavoro incredibile Infatti il delay via wireless è di 1 millisecondo Il che ovviamente l'ho voluto mettere alla prova ed è stato veramente così ragazzi Ho provato questo mouse con titoli come Apex Fortnite, sebbene io sia assolutamente una pippa La demo tecnica di Ghost Recon Breakpoint E anche ovviamente Battlefield V E l'esperienza di utilizzo con questo mouse che fosse in wireless o che fosse via cavo È stata praticamente la stessa Non c'è mai una basetta di ricarica Quindi dovrete comunque sempre tenerli a portata di mano il cavo per poterlo ricaricare Però non è un grossissimo problema anche perché potrete continuare a giocare proprio anche con il suo via cavo Quindi non vi limiterà in questo senso Ma parliamo un attimo delle specifiche più tecniche Ve l'ho già detto Un millisecondo di delay Già qualcosa di incredibile Poi possiamo passare da 400 a 16.000 dpi Che sono veramente un'enormità Non credo di aver mai superato nemmeno i 600 dpi Però qualora vi dovesse servire Beh, li avete a disposizione Abbiamo poi un polling rate fino a 1000 Hz Che corrisponde sostanzialmente a una precisione veramente molto molto alta di questo mouse La connessione wireless è 2.4 GHz Ed è per questo anche che abbiamo questa low latency E quindi un delay veramente ridotto All'interno poi c'è una batteria da 500 mAh Che vi garantisce un buon numero di ore di gioco Non l'ho mai portato fino a batteria completamente esaurita Quindi vi posso dire che tendenzialmente a me è durato più di una settimana senza grossi problemi Senza neanche spingere troppo sulle luci LED RGB Perché sì, abbiamo anche quelle Durante la connessione wireless si spegneranno quando non utilizzato Mentre quando sarà connesso via cavo Beh, rimarrà sempre acceso finché sarà alimentato In questo modo ovviamente risparmia batteria E tutte queste luci E anche le 5 configurazioni possibili su DPI Polling rate e quant'altro Sono gestibili da software dedicato Che però è solo per Windows Come è normale che sia Visto che è dedicato al mondo gaming E il gaming sulle altre piattaforme è molto ridotto Non mi sono soffermato sul discorso dei giochi di luce Perché sono sempre gli stessi Potete veramente fare quello che volete E tramite software ovviamente potete gestire anche la funzionalità dei singoli tasti Perché oltre al tasto sinistro e destro La rotellina abbiamo anche due tasti sul lato sinistro E ovviamente visto che come detto prima E anche per mancini I due tasti saranno anche sulla destra In totale quindi abbiamo sostanzialmente 7 tasti configurabili Ma ora veniamo un attimo al lato più pratico Quello che lo rende effettivamente interessante Anche per i mancini Infatti le due ali per così dire laterali Che servono ad appoggiare il nostro pollice Possono essere tolte e sostituite con delle semplici parti in plastica In modo tale da configurarlo proprio per la vostra posizione preferita Non solo Al di sotto abbiamo anche due piccoli pesi Che ci permettono quindi di regolare il carico sul mouse E così trovare la soluzione migliore che fa il caso nostro Una cosa che ho trovato molto pratica Ma anche simpatica da un lato È che il dongle USB Che ci permette di collegare questo mouse via wireless al nostro PC Può essere inserito in un piccolo carrellino posto all'interno del mouse Così che ce lo possiamo portare via senza il rischio di perderlo Perché è magnetico e da lì credetemi non si toglie facilmente Bisognerà utilizzare un tasto posto sotto al mouse proprio per poterlo estrarre E anche questa l'ho trovata veramente una soluzione di design interessantissima Non presente su tantissimi brand anche più blasonati E spesso e volentieri perdiamo proprio il dongle E a quel punto addio wireless E fino ad ora vi ho parlato delle sue caratteristiche Sia a livello pratico sia a livello probabilmente di specifiche Ma com'è utilizzare questo mouse giocando ai titoli del momento O anche semplicemente divertendosi con qualsiasi titolo a noi piaccia? Beh, pro e contro Per quanto riguarda il delay ve l'ho detto prima Non esiste, un millisecondo praticamente non si fa sentire Quindi che voi lo utilizzate via wireless o via cavo Non avrete alcun problema Il feedback dei tasti è eccezionale Mi sono trovato veramente molto molto bene Per mani grandi come la mia I tasti laterali forse sono posizionati un po' troppo indietro Quindi col pollice faccio un po' più fatica a cliccare il primo verso di me E vado direttamente sul secondo Questo può essere un limite Perché non garantisce comunque la possibilità di accedere velocemente a tutti i tasti Il click sul tasto sinistro e sul tasto destro è immediato ed è eccezionale Anche perché ci sono degli attuatori meccanici sotto questi tasti E quindi il feedback non è soltanto sonoro ma anche tattile Ed è un po' come scrivere su una tastiera Si ha veramente un controllo totale Il tasto per il cambio dpi è un po' duro devo dire Però in questo caso evita il cambio accidentale E il che non è assolutamente male Perché non è assolutamente bello trovarsi in gioco in un combattimento di quelli intensi E vedere il mouse passare da 400 dpi a 16.000 dpi Ecco, non lo consiglio e non lo auguro a nessuno Perché potete passare dei brutti momenti La rotellina è la cosa più cheap che ho trovato all'interno di questo mouse Tutto il resto è ben costruito, è solido E questa rotella sinceramente va a rovinare un po' il tutto Avrei preferito fosse curata nel dettaglio anche in questo caso Mentre il click su di essa, perfetta Non c'è gioco come può capitare su alcuni mouse Che facendo scrollare si muova un po' a sinistra a destra In questo caso è sempre stabile al suo centro La personalizzazione secondo me è eccezionale Funziona tutta tramite magneti Quindi non abbiamo la possibilità di perderli Sono molto forti Di conseguenza nemmeno in maniera accidentale li vedremo scappare via da lì Ma rimarranno ben attaccati Per quanto riguarda le dimensioni invece Beh, non è certo un mouse grande È un mouse nella media Quindi può andare bene alla maggior parte di voi Il suo peso, con tutti e due i pesi, è anche abbastanza interessante Quindi vi permette anche di avere maggior controllo E poi il sensore fa veramente un grandissimo lavoro 1000Hz di polling rate già dicono abbastanza Vi posso garantire che è veramente molto ma molto preciso Aggiusta una piccola cosa che non vi ho detto prima Quando vi ho parlato della connessione wireless Ovviamente la gestione della batteria è cura assoluta di GameSeer Quindi ogni volta che voi lo lascerete un attimo fermo E non lo utilizzerete Andrà automaticamente in stand-by Così per poter durare il più possibile Ovvio che la cosa migliore da fare una volta finito il gioco È di mettere in off il mouse con il tasto che trovate al di sotto E beh ragazzi, che cos'altro dirvi su questo GM300? Io mi sono trovato bene Vi ho detto alcuni difetti che ha dal mio punto di vista Per alcuni di voi magari non sono neanche così un grosso problema Però è giusto metterli in luce Poi non ve l'ho detto prima ma devo dire che mi piace anche molto esteticamente Il che non guasta Beh, fatemi sapere ovviamente cosa pensate di questo mouse Se avete dubbi o domande lasciate un commento qui sotto Vi voglio anche ricordare che qui sotto in descrizione trovate il link ad Amazon Per informarvi meglio su alcune caratteristiche E magari perché no acquistarlo Per oggi quindi è tutto Come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video A presto Ciao Ciao Grazie a tutti.